Frazesk, soldata, Fiju! Abbiamo appena neutralizzato l'obiettivo Delta. Ecco l'obiettivo attuale. Ho localizzato un cecchino nemico. Si trova ovest della tua posizione. Ascoltate l'obiettivo Bob Strauss e sotto il nostro controllo. Abna Arushan, Frazeski Tank. Fiju, Frazeski L.A.V. Atenzione, insieme il nemico in arrivo. Vedo un mitragliere nemico poco più a est di te. A ovest della tua posizione è francissi a un mitragliere nemico. L'obiettivo Bravo è appena stato neutralizzato. Appena a nord della tua posizione c'è un elicottero nemico. Grazie a tutti.